L'artista esistenzialista, buona serata a tutti, il destino di Max Allegri, il destino di Max Allegri ormai è un rebus già da un bel po' di settimane, quindi un pochettino per certi versi un rompicapo, un po' come il cubo di Rubik la situazione attuale qual è? In base quindi a un parere personale e a quelle che sono le notizie a mia disposizione sicuramente Allegri in queste tre partite si gioca tanto, cioè due partite di Corpa Italia e una di campionato domenica a Roma con la Lazio e quindi significheranno tanto per il futuro di Allegri, laddove troverà un tutor sicuramente con una difesa molto, molto, diciamo una difesa stretta che prende pochi gol, al Marseille ne prende pochissimo, quindi un lavoro difensivo specifico e quant'altro che non avrà Blaovic, perlomeno per la partita di domenica o quanto sembra, sicuramente con un McKennie non in condizionato male per problemi alla spalla anche domenica è uscito per problemi sofferenziali, quindi a livello del capsulo legamentoso alla spalla, che è numerale e quant'altro un rabbio che ha recuperato da poco, insomma un ottio si è disfogliato e quant'altro quindi situazioni abbastanza complicate e delicate, un aiuto che in tre partite comunque ha subito quattro reti, soltanto domenica 0-0 ma poi non è andata a segno, a parte queste, diciamo, valutazioni dell'ultimo, quello che è un dato di fatto che ripeto, la squadra di Allegri è una squadra in difficoltà attualmente, è una squadra che non segue più il proprio allenatore l'espulsione di Blaovic la dice lunga, tanti hanno detto che magari ha un atteggiamento poco professionale al bambino posso anche concordare, ma la realtà dei fatti è che comunque Blaovic un po' come tanti è sotto pressione e quindi è una situazione poco piacevole allora, perché vi dicevi il futuro di Allegri in, diciamo, una settimana o giù di lì, 15 giorni? perché fondamentalmente Allegri in questa settimana effettivamente si gioca tutto allora, il discorso riguardante un esonero per quanto riguarda questa settimana, l'altra a breve giro di posti, secondo me non è plausibile, nel senso che è una società che comunque fondamentalmente non ha le somme necessarie per poter pagare questa e l'altro anno lui ha uno scadenza di contratto 2025 e quindi è più informabile che magari l'anno prossimo, 2025 laddove non ci sarà più Cherubini perché comunque in scadenza di contratto si fanno i nomi di Micheli di Napoli, di Pompilio, molto probabilmente di Pompilio, ma stanno vedendo anche per Micheli anche lui scadenza di contatto tra le altre cose a Napoli e quindi, ripete, Allegri si troverà solo, nel senso che la realtà dei fatti è che senza Cherubini rimane effettivamente solo con un calvo che è contro di lui, per quanto riguarda la dirigenza manna qualcuno, dice, dalle sue parti, ma relativamente è giunto lì che, boom, salta da una parte all'altra la mia verità, il mio modo di pensare è che comunque Giuntoli, secondo me, non ha l'idea di rimanere con Agarallegri perché? Perché a Napoli ha rifatto tutto quindi a livello dirigenziale ha un po' smantellato tutto ha portato i suoi giocatori e quant'altro quindi ha creato lui delle cose cose che vorrebbe fare o vuole fare anche a Torino fin quando avrà la reale possibilità di potersi muovere ma tutto è nelle mani di John Elkan sicuramente la partecipazione, diciamo, al Monterrey per club alla prossima Champions League, sperando la Juve scivata perché al momento è tutto in alto mare, bisognerà vedere potrebbe anche aiutare la squadra bianconiera magari il prossimo anno, 9 milioni di euro 7 più 2, viene dai 5 e chiudi, insomma, questa barzelletta se l'idea della Juve è quella là non penso a Zidane come sostituto come non penso a Conte perché sono delle cifre tanto, troppo onerose per le casse bianconiere i veri tifosi della Juve vogliono Zidane con Conte un ritorno ma lascia il tempo che trova l'idea di mia è che, tra le altre cose, ci sono delle conferme in merito ci dovessero incontro ieri in serata alle ore 19, 19.30 e giù di lì ma non c'è stato, è saltato per tante motivazioni c'è stata però una telefonata da parte di Giuntoli a Tiacomotta l'ennesima conferma che la Juve è su Tiacomotta biennale o biennale più 1, quindi quasi per certi versi cioè il terzo anno e il triennale a 3 milioni di euro all'anno una sola richiesta da quella di Tiacomotta se devo scegliere, ho la possibilità reale di fare delle valutazioni io voglio, vorrei potenzialmente a Calafiù che è il centrale del Bologna 30 milioni di euro chiaramente se la Juve dovesse vendere Bremer oppure magari non riscattare o non tenere giallo per dire che potrebbe magari potenzialmente andare su Calafiù stesso discorso che poi verranno valutati in prospettiva fra i vari Alcaraz, Miglietti, che non credo possa rientrare il in giugno non credo possa rientrare la Juve farà tot valutazioni sui giocatori che in prospettiva debbono crescere possono crescere tranquillamente e alcuni campioni sicuramente è presumibile che vada su Coppa Maia o magari potenzialmente su Goresca del Bayern Monaco a meno che poi potenzialmente Goresca non potrebbe rinnovare io credo magari c'è più l'idea Coppa Maia su lei potrebbe andare sui soldi all'Atalanta cosa che magari sappiamo e quindi queste sono un pochettino le idee dell'ultimo ruolo quindi la percentuale che Allegri rimanga credo che con le famose 50 più 1 al 50% o attualmente è su 50 e 50 addirittura in questo momento 49 e 51 diretto verso diciamo quella che potrebbe essere la nuova era che è quella di Tiago Motto signori chiaramente quella percentuale post partite con la Lazio se le cose possono stare andare male precipiterebbero anche a 60 e a 40 ripeto a breve giro di posta è difficile ma la mia idea è che la Juve comunque ha contattato ha tenuto a prenderci in giro le conferme ci sono ha contattato Tiago Motto c'è l'idea di partire con Tiago Motto e Tiago Motto tra le altre cose comunque non è vera neanche la notizia che potrebbe rimanere a Bologna in caso di Champions League perché Tiago Motto ormai spiccare il volo si è fatto il nome del Barcellona laddove lui non ha preso un minuto in considerazione qualcuno dice Paris Saint Germain almeno risulta lui vorrebbe rimanere in Italia e se parla di Milan in Juve vedremo un attimino ma io credo che lui si è intricato dall'idea di poter portare qualcosa di nuovo il suo gioco è abbastanza anche pagmatico particolareggiato cambia molto in corso fra zona Ume e quant'altro e ripeto potrebbe lavorare con i giovani e sicuramente magari ravvivare quello che è una situazione in quel di Torino laddove c'è anche una dirigenza spaccata perché fin quando non ci sarà un pochettino più di chiarezza poi nel tempo magari potrebbero subentrare anche delle vecchie leggende Chiellini del Piero quant'altro ma questa è una cosa che più magari nel tempo ripeto a breve giro di posta bisogna conquistare questa benedetta Champions League e quindi poi verranno fatte le valutazioni in merito per quelle che sono ribadisco sicuramente non credo all'esonero la Juve non butterà soldi dal balcone assolutamente e quindi non ci sarà nessun traghettatore perché c'è stato un certo tipo di lavoro di Allegri che ha avuto già dei risultati dall'inizio adesso non li ha perché la squadra non lo seguono prima ma fondamentalmente io non credo nessun traghettatore la Juve continuerà fino a fine d'anno con questo tecnico fino a quindi alla fine e credo anche in caso di sconfitte quant'altro cercheranno di mantenersi con delle valutazioni mantenendo il popolo bianconero tranquillo e quant'altro sicuramente io credo che in primi sui giuntoli avrà fatto le sue valutazioni ora bisogna vedere il potere di giuntoli ma ripeto tutto è nelle mani di John Elkan per le valutazioni finali e certamente il fatto di avere delle problematiche di una certa tipologia di spessore anche a livello amministrativo a livello economico quindi importanti per quanto riguarda la famiglia Elkan Agnelli le somme da dare sulla patrimoniale da una parte all'altra sono comunque situazioni impegnative ecco che probabilmente John Elkan non si muove del tutto ma io credo che appena tante cose saranno chiare e sicuramente questa settimana e l'altra saranno 15 giorni di fuco laddove secondo me allegri si gioca tutto se non ha breve ci sono di posto per il prossimo campionato all'artista esistenzialista buona giornata a tutti